sono marcello lippi campione del mondo con l'italia nel 2006 in germania e sono particolarmente vicino in questo momento difficile a tutti e tutte le persone che hanno avuto problemi con il terremoto in marocco in particolare a marrakesh e auguro una pronta guarigione a tutti i feriti e condolioni a chi ha perso i familiari che passano un buon souvenir e la buona chance la priere anche a tutti i popoli marocchi che passano dei momenti difficili spero che Dio possa aiutare e dare delle forze anche per passare dei momenti difficili io voglio dimostare al popolo marocco tutta la mia sympathia per il terribile drame che vieno di subito a chiesto del coraggio e spero che i potranno surmonter tutti i mali e che la vita e la futura vita divina più piacevole tutti i più grandi sentimenti sono per loro un messaggio di supporto ai marocchi che hanno subito questo tremblement di terra terribile c'è abbastanza di anni lì qui abbiamo apprisciato qui a Maputo e vi chiamo buon coraggio per la ricostruzione del paio e tutti i condolioni per le victime voilà noi veniamo di giocare con il Benin a Maputo per Mozambique e un grosso a voi buonasera a tutto il popolo marocchino colpito da queste immane tragedia vi sono vicino vorrei aiutarli lo farò in tutte le maniere ma soprattutto dovete avere la grande forza di ripartire tutto il mondo vi è vicino vi sarà di aiuto nei momenti più difficili che sono proprio questi mi dispiace per tutti coloro che hanno perso i parenti gli amici e tutti quelli che hanno subito gravi menomazioni vi dico solo forza è avanti tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti